ciao ragazzi eccoci qui benvenuti allo shop del 7 novembre 2021 da vedere lo shop mi raccomando mettete un bel pollicione in su al video iscrivetevi al canale se volete supportare il canale ovviamente codice a sexport al comandante scarlato 800 vbac o veloci che i primi di 800 vbac il cardino con la sua ciotolina 1500 vbac stacchetto per il cane 200 vbac e giocato da maticare 500 vbac tutto bello dorato la copertura bau 300 vbac sotto i soliti quando segnalino aveva i segnalini dei monopoli di ieri il bando vediamo al volo perché l'artiere brutto una delle mie preferite come skin 800 vbac questa è molto bella come skin cancer con i suoi spuntoni e malurgici e coltelli di vetro vulcanici 1600 vbac tutto il pacchetto poi c'è anche la copertura eccola qui accettoso per cento di vbac la musica 200 vbac ci sono i supereroi non sarei che li vediamo perché è molto visti il passato e mantelline le morte con il strumento di raccolta e il dorso decorativo non è molto vabbè c'è il bando il jinx arcana migliere visto ieri tutti i bando precedenti dei settimane precedenti avrono certo ragazzi con questo vi saluto vi ringrazio per il pollicione in su per l'iscrizione al canale per tutti i nuovi volete abbonarvi c'è il tasto abbonati un euro volete supportare il canale col codice creatore conci creatore asset sport ma saluti ciao ragazzi e buona continuazione a tutti ciao